Tutto ormai è definito per la terza stagione della V-Storm Academy, la scuola creata da Suzuki che permette a chiunque di migliorare la propria tecnica di guida e avvicinarsi all'utilizzo fuoristrada delle sport enduro tourer bicilindriche. Riconfermata l'apprezzata location del castello di Luzzano a Rovescala in provincia di Pavia, la V-Storm Academy ha in serbo tante importante novità. La prima riguarda il parco moto che quest'anno avrà come assoluta protagonista la nuova V-Storm 1050 XT, il modello che rappresenta la massima espressione del segmento adventure della casa Yamamatsu. Anche l'offerta didattica si aggiorna sotto la supervisione di Andrea Beconi, pilota di grande esperienza, già porta colori della maglia azzurra della nazionale enduro, che con Suzuki si è laureato anche campione europeo di enduro nel 2009. I corsi 2020 avranno durata di un giorno e prevedono due momenti ben distinti. La mattina sarà dedicata all'apprendimento delle tecniche fondamentali di guida in circuiti appositamente creati, mentre nel pomeriggio gli allievi potranno mettere in pratica quanto imparato. La Suzuki V-Storm Academy adotta un approccio didattico collaudato ed efficace. I corsi sono tenuti da istruttori altamente qualificati. Tutto lo staff vanta una grande esperienza nel mettere al loro agio gli allievi e nel comunicare in modo chiaro ogni informazione. I partecipanti sono suddivisi in maniera omogenea per creare il giusto rapporto tra istruttori e allievi, che sono così seguiti meglio e trovano il contesto ideale per affinare le loro capacità di guida e la loro padronanza della moto. Attraverso esercizi studiati ad hoc, la V-Storm Academy consentirà anche ai meno esperti di avvicinarsi all'off-road in totale sicurezza, così come ai più esperti di sviluppare tecniche di guida avanzate. I corsi, dal costo di 300 euro, importo che comprende anche il noleggio della moto, prevedono l'arrivo dei partecipanti alle ore 9 per la registrazione, accompagnata da un welcome coffee. Una volta indossato l'abbigliamento tecnico, alle 9.45 è in agenda un briefing con una spiegazione degli esercizi che saranno svolti in moto e una presentazione tecnica della V-Storm 1050 XT. La parte pratica in sella si terrà dalle 10.45 alle 13.15, in un'area allestita ad hoc dallo staff Suzuki. Dopo il pranzo, in programma tra le 13.30 e le 14.30, gli allievi affronteranno assieme agli istruttori l'esperienza del vero adventuring, un suggestivo tour sulle colline circostanti lungo un bel percorso off-road. La chiusura del corso è prevista per le 17.30, con i saluti finali e la consegna del gift pack con l'attestato di partecipazione ufficiale e alcuni gadget Suzuki. Partecipare alla V-Storm Academy è anche un'occasione unica per saltare in sella alla V-Storm 1050 XT e toccare con mano le sue qualità. La V-Storm 1050 XT, in vendita ad un prezzo concorrenziale di 14.590€, offre un pacchetto tecnico che le dona agilità e prestazioni al top, composto da un telaio a doppia trave d'alluminio leggero e robusto e da un motore bicilindrico a V di 90 gradi, Geuro 5 da ben 107,4 CV. Nel quadro ciclistico spiccano le sospensioni completamente regolabili e i resistenti cerchi a raggi, su cui l'Academy monta pneumatici tassellati Anlass Capra X, che assicurano un grip eccellente anche sui fondi a bassa aderenza. Il manubrio in alluminio a sezione variabile, le ampie pedane off-road e la sella regolabile su due livelli garantiscono una posizione di guida adatta a tutti i piloti e un controllo assoluto in ogni situazione. La dotazione di serie comprende poi numerosi dispositivi elettronici che esaltano la versatilità della V-Storm 1050 XT. Tutta la tecnologia è racchiusa nel pacchetto Suzuki Intelligent Ride System ed è supportata da una piattaforma iniziale Bosch, che monitora i movimenti della moto in sei direzioni lungo tre assi.